Non piace al centro-sinistra la riforma elettorale della regione che abbassa al 40% il limite da raggiungere nel primo turno per un candidato sindaco nelle città dove prima era previsto il ricorso al ballottaggio in assenza del 50% più 1 dei voti al primo turno. Un'operazione singolare, un po' di malizia me la consentirete quando penso a un caso mirato a Udine, quindi di fatto si modifica una legge elettorale in base a un'esigenza politica e non ad una esigenza istituzionale. Dal centro-destra però si respinge l'insinuazione che sia una legge partorita dopo la sconfitta di Pietro Fontanini a Udine per mano di Felice Alberto Retoni, con il 40% come limite Fontanini oggi sarebbe ancora sindaco della città. È vero che l'anno scorso potrebbe essere a vantaggio del centro-destra ma può essere a vantaggio molte volte anche di altre parti politiche perché penso sia, insomma, non sia in parecchi comuni ma anche nel comune di Luglia stesso che comunque anche nelle tornate successive è la tradizione più diciamo marcata sul centro-sinistra. Di riforma del sistema elettorale si è parlato anche in sede di Comitato delle Autonomie Locali che ha riunito i sindaci per il periodico confronto con gli amministratori regionali su provvedimenti e delibere della Giunta, dibattito aperto sull'allineamento di tutte le tornate amministrative. Dipende quali sono i tempi dell'allineamento, ecco se si va oltre l'anno, anno e mezzo credo che un qualche problema forse ci sia, ecco, fermo restando che nel momento in cui si tratta di allineare, è già stato fatto in passato, del resto quando ci sono dei mesi dall'autunno alla primavera o dalla primavera all'autunno c'è la necessità di riallineare. Grazie a tutti.